Sembra una cartolina di altri tempi, ma in realtà è una fotografia scattata poco prima che la seconda edizione di Sghiando avesse inizio. La Proloco di Abetone, insieme all'Associazione Nido delle Aquile, all'amministrazione comunale di Abetone Cutigliano e supportata da numerosi esercizi commerciali, propone la seconda edizione di Sghiando. Sghiando è la futuribile proposta turistica dal sapore vintage che rende onore a chi ha impiantato lo sci alla Abetone e a chi la Abetone lo ha reso famoso nel mondo con gesti atletici da medaglia d'oro, e che ha il proposito di valorizzare il patrimonio legato alle tradizioni delle comunità locali, volando alti sul confine amministrativo disegnato sull'appennino tosco-emiliano. Sghiando guarda avanti e coinvolge i ragazzi delle scuole medie ed elementari, dei plessi scolastici di Pieve Pelago e San Marcello Pistoiese. Hanno elaborato alcune immagini grafico-pittoriche cercando di rappresentare la manifestazione Sghiando e la montagna durante la stagione invernale. La fiaccolata che venerdì 2 marzo ha aperto la manifestazione fa parte della tradizione fiumalbina, praticata nel luogo di origine per bruciare il vicino carnevale. Le fiaccole, composte dal legno di abete e stracci, hanno disegnato coreografie suggestive, compresa l'accensione del focolare, segnale usato per dare inizio alla fiaccolata condotta dai maestri delle scuole di sci locali, proprio sulle piste disegnate da Zeno Colò. Ai tempi delle glorie dello sci abetonesi si sciava lo slalom tracciato con i pali di nocciolo. Allora abbiamo i pali di tre colori come usava negli anni 50 e i primi anni 60, tracciato vintage naturalmente, quindi mi sento giovane stasera. È un tracciato abbastanza tecnico, con qualche trabocchetto, ma non più di tanto può darsi che qualcuno magari salta anche fuori. La gara si è disputata in due mance, come da manuale, mettendo a dura prova chi ha voluto rivivere le gesta degli sciatori di tanti anni fa. Le attrezzature da sci di una volta e l'abbigliamento invernale elegante, anche agli occhi di oggi, invogliano gli astenuti a partecipare alla prossima edizione di Sghiando. Sghiando è un modo diverso di vivere lo sci alla betone.